Buongiorno! Ormai viaggiare con la nebbia è diventato una prassi. Abbiamo appena salutato Spilimberg e ora ci stiamo dirigendo a Vicenza, dove andremo nel centro team a recuperare Matteo, che a quanto pare vuole fare il cavallerizzo. E giriamo col cavallo! Ciao Matteo, piacere di conoscerti. Oggi siamo a cavallo perché sai cosa facciamo? Andiamo a cavallo! Andiamo allora! Ora si parte con Follow Team! Allora Matteo, sei carico per la giornata di oggi? Carichissimo, però non sono mai andato a cavallo, quindi se cadrò mi do il permesso di ridere. È quello che speravo! Ciao, io sono Oriano, benvenuti a Pagliaceno. Questo si sta da metano. In questa città non c'è abbastanza spazio per entrare. In questa città non c'è abbastanza spazio per entrare. Grande! È stato fantastico! Ci siamo divertiti! Ogni tanto Matteo mi guardava perché era affascinato dal vedere un asino che va a cavallo. All'inizio ero tesissimo, poi mi sono rilassato e è andato tutto bellissimo. Non volevo più scendere. Matteo, è stato un grandissimo piacere, spero che tu ti sia divertito. Bene, ora potrai bullarti con i tuoi colleghi di essere l'uomo che sossurra i cavalli. E anche oggi la giornata di Fallout In si è conclusa, Matteo si è ritenuto soddisfatto del suo giro a cavallo e domani rimpiccioliremo il mezzo e andremo in giro a Ferrari in bicicletta. Grazie a tutti!